vi è mai capitato di essere fuori con la vostra pernetta preferita non averla caricata esservi dimenticati e non sapere come fare non avendo magari dietro nemmeno il caricatore da muro che poi appunto lo dice la parola stessa se non abbiamo una presa a muro non abbiamo possibilità di poterla caricare la cosa più logica sarebbe acquistare un power bank ma se poi troviamo un power bank studiato appositamente per la uenax s3 di geek vape ecco che l'amico unico sulle orme del primo power bank ha creato un apposito power bank con le stesse caratteristiche che però si adatta perfettamente si sposa anche in quelle che sono le correlazioni con la uenax s3 ma non voglio dirvi null'altro per cui andiamo a aprire la confezione e vediamo cosa troviamo al suo interno io sono fabio vi invito a iscrivervi al mio canale perché è un gesto semplicissimo ma per me è fondamentale la vostra iscrizione mettete un bel pollice verso l'alto se il video vi piace e mi raccomando spuntate la campanellina in modo che il mio prossimo video voi possiate essere avvisati ed ecco come arriverà a casa vostra la unico power bank questa volta per la uenax s3 una pratica bustina dove al suo interno troveremo un fogliettino che ci starà a indicare come sbattire nel migliore dei modi la batteria integrata al suo interno il classico manualetto di istruzioni che vi consiglio sempre di andare a leggere e poi l'unico power bank per la uenax s3 di geek vape non è è stato studiato appositamente sulla uenax ma è compatibile con altri modelli di pennette andiamo a dare una breve panoramica come possiamo vedere rispetto a quella che è la versione precedente che era squadrata sulla parte posteriore qui è stata arrotondata questo ne guadagna in come presa si tiene veramente bene risulta essere molto più ergonomica rispetto a quella che è la versione precedente altra differenza risulta essere quella che è la presa usb c qui la troviamo sul lato non la troviamo più nella parte sottostante 19 mm che possiamo andare che alloggia che possiamo andare a mettere e sono stati fatti due scassi su questa parte per agevolarci con le dita andare a prendere e staccare quella che è la pennetta nella parte sottostante nulla è cambiata abbiamo le due prese una per un device esterno e una per effettuare la ricarica della nostra batteria integrata un'altra cosa che volevo farvi vedere che anche la scritta risulta essere leggermente più piccolina rispetto a quella che era prima e poi un'altra cosa che mi ha fatto molto piacere trovare non so se riesco a farvela vedere ma nella mia è stata personalizzata e viene riportato il nome e una sigla che sta appunto per svapando con fabio altra cosa che stavo quasi per dimenticare le colorazioni esistono diverse colorazioni sono state tutte create appositamente sulle colorazioni della un access 3 che se non ricordo male sono cinque adesso non vorrei dire una stupidata cambiamo quella che è l'inquadratura andiamo in primo piano anche se effettivamente primo piano ci siamo già e andiamo a vedere cosa ne penso di questo nuovo prodotto che nasce sulle orme della primo power bank ed eccoci tornati in primo piano con il nostro unico power bank s3 studiato appositamente per la winax s3 di kick vape come abbiamo visto le diversità rispetto alla prima versione come in tutte le cose la seconda versione viene sempre meglio o perlomeno memory di quelle che sono gli errori che si possono verificare con le prime versioni nelle seconde vengono migliorate ed è quello infatti che è stato fatto la parte dietro è stata arrotondata così viene vengono ridotti quelli che sono gli ingombri e nello stesso contesto risulta essere molto ergonomica si tiene molto bene in mano la batteria come abbiamo visto una 18650 non nulla è cambiato rispetto alla versione precedente così come i quattro led qua presenti che poi in descrizione vi faccio vedere quelle che sono le percentuali di ricarica quando la vostra pila la vostra batteria all'interno si andrà pian piano scaricando il materiale risulta essere sempre lo stesso perché il materiale risulta essere un materiale molto robusto solido anche se dovesse cadere non succede assolutamente niente le differenze sostanziali sono che la presa usb c adesso è sul sul fianco perché tante pennette hanno la presa sul fianco ed ecco perché appunto è stata creata su quello che è l'impronta della one s3 infatti si sposa benissimo con lei tant'è che le colorazioni che abbiamo a disposizione che anche queste potete vedere o ve le metto qua in alto e sono esattamente la riproduzione quasi fedele di quelle che sono le colorazioni utilizzate per la wenax come abbiamo visto lo scasso qua è davvero una genialata nel senso che come vi ho fatto pronta la vostra attenzione prima quando troviamo la pennetta che sulla stessa facciata riporta quella che la presa usb c e la levetta per andare a modificare quello che è il flusso dell'aria andava a battere e di conseguenza non non si poteva non combaciava bene ecco che è stata studiata questa parte questo incavo che permette una perfetta assemblaggio chiamiamolo così rispetto alla prima versione non troviamo più il tastino sul fianco perché tutto è stato automatizzato tutto è controllato dal circuito che c'è al suo interno a tutte le protezioni del caso per cui non c'è nessun problema la batteria 18650 al suo interno è una garanzia inoltre cosa succede quando andiamo ad assemblare la nostra wenax con il nostro power bank abbiamo la possibilità di poterla utilizzare tranquillamente tant'è che è stata prevista anche quella che la funzione passerò per cui noi volendo potremmo anche sempre utilizzarla in questa maniera come detto è priva di tastina per cui tutto risulta essere automatico una cosa che voglio portare la vostra attenzione qualora andate a montarla su quello che è la wenas s3 a piena ricarica la wenas rimarrà sempre in ogni caso il led nella parte sottostante acceso si andranno a spegnere i quattro led che sarà indicare che la ricarica è avvenuta e completata mentre solo ed esclusivamente per quello che riguarda la wenax rimarrà appunto acceso quello che è il led bene i due scassi come avete visto c'è la possibilità di poterla andare compatibile con tutte quelle che le altre pennette fino a un diametro di 19 mm si tiene bene in mano leggera io sono contento che l'amico unico mi abbia tra le altre cose fatto una personalizzazione qua sul fianco come vi ho fatto vedere prima è un prodotto che trovo veramente funzionale non è più non è più prevista come avete visto la confezione perché dai feedback che gli sono arrivati hanno hanno ritenuto che la scatoletta per quanto possa essere essere risultata igienica però era un attimino ingombrante molto più semplice portasse solo dietro un power bank o addirittura la pennetta col power bank per cui grande tato ti ringrazio per avermi dato la possibilità di poter testare questo tuo nuovo prodotto mi auguro e mi spero così come ho fatto la volta scorsa che tu continui la tua ricerca e ci renda disponibile magari un power bank la butto lì è un power bank che abbia la possibilità di poter andare a ricaricare sia quelle con la presa sottostante che quelle con la presa laterale sarebbe sufficiente io la butto lì è una levettina qua sul fianco dove poter ritrarre quella che è la porta usbc e lasciare sempre invece quella nella parte sottostante bel prodotto sento di consigliarvelo il prezzo è stato ribassato perché di conseguenza ci sono molto meno materiale e non c'è la confezione igienica per cui è un prodotto che nel contesto a me piace e sento di consigliarvelo non saprei che altro aggiungere per non diventare ripetitivo dire sempre le stesse cose perché come detto è un prodotto che va veramente bene io chiuderei qua il mio video non prima di avervi ricordato come sono solito fare di spuntare la campanellina in modo che il mio prossimo video possiate essere avvisato di mettere un bel pollice verso l'alto se il video vi è piaciuto e ovviamente di iscrivervi al mio canale a voi non costa niente per me è davvero fondamentale e importante e come di consueto io con l'ultima svapata vi saluto ciao a tutti